Buonasera, ben ritrovati. Buonasera, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con il notiziario Spazio Professioni. A febbraio 2016 sono state aperte 51.141 partite IVA in confronto al corrispondente mese dell'anno precedente e si è registrato un incremento del 18%. L'aumento è stato determinato principalmente dalle maggiori adesioni al regime agevolato forfettario che sono 17.852, pari a circa il 35% del totale dell'apertura. Sono questi i dati dell'osservatorio sulle partite IVA pubblicato dal Ministero dell'Economia e della Finanza. La distribuzione per natura giuridica mostra che il 70,5% delle nuove partite IVA è stato aperto dalle persone fisiche, il 23% dalle società di capitali e il 5,8% dalle società di persone. A riguardo alla ripartizione territoriale, il 43,5% delle partite IVA è localizzato al nord, il 22,2% al centro e il 34,1% al sud e sulle isole. Il confronto con lo stesso mese dello scorso anno segnala che tutte le regioni presentano incrementi più consistenti nelle province autonome di Trento e nelle Marche, più lievi in Sardegna e Sicilia. In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio continua a registrare il maggior numero di aperture di partite IVA con oltre il 23% del totale, seguito dalle attività professionali con il 14,6% e dall'agricoltura poco oltre il 10%. Rispetto al mese di febbraio dello scorso anno, tra i settori principali si osserva l'incremento delle nuove aperture nel comparto delle attività professionali che registrano oltre il 58% di aumento, dell'istruzione che sono attorno al 58% e della sanità con un più 39%, mentre non si segnalano cali di avviamenti in altri settori. Ci occupiamo ora di ambiente e territorio. Si è tenuto il 6 e il 7 aprile a Minori il convegno sul dissesto idrogeologico organizzato dall'Ordine dei Geologi della Regione Campania. Presenta anche il Presidente di Conf Professioni Gaetano Stella che parla ai nostri microfoni. Il Singeop è il sindacato dei Geologi che è uno dei nostri associati e per cui loro si sono fatti carico di affrontare questo tema molto delicato che riguarda i cambiamenti climatici sicuramente che ci sono stati nel nostro Paese, ma soprattutto anche le azioni di senata dell'uomo. E dato che da tempo con professioni si occupa sempre di più di problemi che riguardano oltre le attività i temi normali del fisco, del lavoro, dei rapporti con la pubblica amministrazione, ma ci voglio occupare anche di ambiente e di territorio e di temi che riguardano la figura dei professionisti ma anche di noi cittadini. E quindi in questo caso abbiamo aderito con grande favore a questa iniziativa che ha messo attorno a un tavolo esperti della materia per cercare di trovare delle soluzioni perché uno dei problemi che abbiamo in Italia è sempre che questi temi vengono affrontati quando c'è l'emergenza invece ci vuole un'attività di prevenzione. Per quello con professioni abbiamo avviato appunto una commissione permanente nel quale attorno a questo tavolo però non ci sono soltanto i geologi ma ci sono anche altre figure quali dell'area sanitaria, dell'area giuridica, dell'area economica perché diciamo che è un problema che interessa tutte le categorie. Più di recentemente abbiamo anche avuto un incontro con la struttura di missione contro il disesto ideologico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata appunto la sottoscrizione di un protocollo di intesa e collaborazione e una logica di sussidiarietà per attivare i professionisti locali sul territorio. Non dimentichiamo poi, cosa non di poco conto, che i professionisti come ben sappiamo hanno ottenuto che anche i fondi europei sono estesi anche ai libri professionisti appunto in quanto eserce un'attività di impresa e la Regione Campania ha messo su questo capitolo del disesto idrogeologico ma anche dei rischi naturali e antropici diciamo la bellezza di 280 milioni di euro che sono pari a circa il 9% delle risorse che appunto dai fondi europei arrivano per la Campania e nello specifico l'obiettivo 5.1 è dedicato proprio alla riduzione del rischio idrogeologico e dell'erosione della costiera. Abbiamo sentito nell'intervista che la Regione Campania ha deciso di impegnare una parte dei fondi europei per intervenire sul disesto idrogeologico, occasione per confrontarsi sulla situazione delle varie regioni d'Italia sul tema dell'accesso ai fondi europei e arrivata dal convegno organizzato da Conf Professioni e tenutosi lo scorso mese di marzo a Frascati. Nell'occasione abbiamo raccolto i contributi dei presidenti delle sezioni di Conf Professioni di Veneto su Tirol Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Piemonte. Vediamoli insieme. Per quanto riguarda la materia del lavoro va al dirà del riconoscimento solo dei fondi europei perché è un riconoscimento che i professionisti datori di lavoro vengono incorporati alle imprese e quindi non dovremo più avere quelle negazioni che il decreto Poletti del 2014 ha dato non riconoscendo, se non dopo una dura battaglia, il diritto anche ai lavoratori degli studi professionali alla Cassa Integrazione Inderogra. Per quanto riguarda invece i fondi ovviamente è un riconoscimento importante perché anche i professionisti hanno necessità di accedervi, hanno necessità di guardare al futuro e ovviamente soprattutto per i giovani che stanno iniziando la professione avere la possibilità di avere finanziamenti finalizzati a dei progetti particolari è estremamente importante. Attualmente la provincia sta negoziando con Bruxelles il secondo o diciamo il prossimo periodo per la gestione dei fondi per il territorio della provincia autonoma di Bolzano quando la provincia avrà definito il quadro certamente ci saremo anche noi come professionisti e per quanto riguarda tutte le altre questioni che riguardano le professioni siamo presenti a tutti i tavoli. Adesso da quando sono stato eletto a novembre dell'anno scorso ho già partecipato a dei tavoli di concertazione alla firma di Cassa Integrazione Inderogra, dei tavoli e degli accordi e il mio intento è quello di fare appunto dei tavoli di lavoro con i vari assessorati per cui mettere dentro Confprofessioni in tutti i bandi che eventualmente metteranno a disposizione i fondi europei. I fondi Regione Piemonte sono minori rispetto agli anni precedenti la Regione ha dato delle priorità che non hanno previsto spazi per noi professionisti come per altre entità, devo essere sincero, proprio perché li ha destinati a cercare principalmente all'innovazione dove il professionista potrebbe trovare un suo spazio ma che sicuramente è molto ridotto. di questo in maniera ammarico, fortunatamente il riconoscimento del professionista in maniera economica e imprenditoriale faciliterà questo compito però non abbiamo in Piemonte, malgrado tutto, gli spazi ottimali per poter accedere a questi fondi. E in chiusura vi segnaliamo l'evento che esiterà venerdì 15 sabato 16 aprile a Genova presso il Palazzo della Nuova Borsa Valori. L'evento è organizzato da Confprofessioni Liguria ed è articolato in tre sessioni a tema che coinvolgono diverse competenze professionali ed un'ulteriore mezza giornata in cui i professionisti del diverse aree saranno a disposizione dei cittadini per offrire consulenza gratuita su temi di attualità. Gli obiettivi del progetto Professionisti sotto la Lanterna sono sostanzialmente due fornire a cittadini, pubblica amministrazione e governo locale un'opportunità per incontrare professionisti di alto livello e confrontarsi su varie tematiche e criticità relative ai diversi settori e approfondire tutti gli aspetti e le difficoltà incontrate nell'esercizio delle singole professioni che spesso non vengono compresi dall'utenza e dalla pubblica amministrazione. E con questo è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima edizione.